è proprio vero che la feca è la forza che muove l'universo sono Giulia, vengo da Treviso, sono qui con mia moglie cosa ci cucini? mia moglie in stile marocchino utilizzerò invece una casa e la farò in sauce un piatto molto complesso si comunque ora facciamo sesso si magari potrebbe aggiungere qualche nota che a me lo alzasse un attimino però sei venuta potrei definirlo quasi terapeutico questo lo apprezzo tantissimo questa è un'occasione della tua vita cerca di fare il tuo peggio e rovinare questa occasione mia moglie la savast si deve sentire non mi puoi portare un lenzolo del genere con tre cacatine dentro no per me no per me è un sì per me ti piace la salsa? è un no 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 Giulia 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 aspetta un momento no no io posso metterci la mia firma su di lei in te vedo tanta aspirazione e secondo me anche del taleggio non solo metto la firma ma ci metto anche la faccia la deluderò la deluderò aspetta un momento stavo scherzando non potevamo perdere questa ragazza sei sicuro? si è una che comunque sa cucinare attenzione secondo me no no dopo Bruno anche Giorgio Locatelli ha speso la sua firma no 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 no